La storia umana è zeppa di misteri irrisciolti, vicende e casi che non trovano spiegazioni logiche né precise paternità. Gli omicidi rappresentano parte rilevante di tale curiosa statistica, con numerosi episodi di uccisioni senza un movente chiaro, in cui il mandante è ignoto eppure l'esecutore a volte non è rintracciabile o identificabile. Misteri, appunto, che non hanno una chiave di lettura assoluta. Prendete uno di questi casi, quello che affrontiamo oggi. Uno di questi call case, vengono chiamati anche in gergo televisivo, si apre la sera del 22 marzo del 1990 a Bruxelles, in un elegante palazzo del centro della capitale belga. La primavera ancora non è del tutto arrivata in città. È un uomo tarchiato, di mezza età, qua addosso un elegante sopravvito di taglio inglese, entra nell'androne del palazzo, sale nella cabina dell'ascensore, dopodiché arriva al terzo piano, dove è collocato il suo appartamento. Il tempo di giungere alla porta dell'appartamento è di infilare la chiave nella toppa. E quell'uomo è già morto. Tre killer sbucano dalle scale con passo felpato, non si fanno sentire, gli piomano alle spalle, gli sparano a bruciapelo cinque colpi, alla testa e alla schiena, per poi fuggire senza lasciare tracce, nemmeno i bossoli espulsi dalle armi automatiche silenziate che hanno utilizzato nell'acquato. Indubbiamente si tratta di professionisti, non hanno lasciato nulla al caso. Sul pianerotto resta accasciato quello che prima era un uomo, quello che è adesso un cadavere. Il cadavere del professor Gerald Bull, 52 anni, specialista di fisica balistica e padre di alcuni dei più potenti pezzi artiglieria mai creati dall'uomo. Con l'omicidio così insolito, perché d'altronde non si trovano tracce, non si trovano indizi, non c'è nulla che porti a un muovente o a un mandante, scuote a malapena il sonnacchioso ambiente belga. Ma testa preoccupazioni da altre parti, in uffici statali, in Nord America e in Medio Oriente. D'altronde, il dossier personale di Gerald Bull era presente già in numerosi ministeri della Nato, ma anche negli uffici del patto di Varsavia e anche in alcuni paesi che vengono definiti non allineati, il famoso terzo mondo, con note caratteristiche spesso sottolineate in alcuni punti focali. Nato nel 1928 da una famiglia immigrata in Canada, Bull era entrato a 20 anni all'IAS di Toronto, l'Institute for Aerospace Studies, sotto la direzione del dottor Gordon Patterson, una istituzione, quella dell'istituto, che godeva del finanziamento statale della difesa per progetti riguardanti l'aerodinamica, la propulsione a getto e la fisica. Qui, il giovane Bull aveva ottenuto una borsa di studio per realizzare una galleria del vento supersonica e anche per partecipare al programma missilistico Velvet Club. Infine, si era specializzato in balistica. Ormai concluso il percorso accademico e prossimo all'uscita dall'ambito dell'insegnamento, il giovane ingegnere aveva focalizzato il proprio interesse su un programma, il programma CARDE, Canadian Armament and Research Development Establishment, in cui si era convinto della necessità di sviluppo dell'artiglieria non come mezzo bellico, attenzione, ma come strumento per il lancio di carichi ad altissima quota, ottenendo le stesse risultanze della sempre più presente missilistica, ma a costi inferiori. Dopo aver lavorato per alcuni anni alla realizzazione di altre gallerie del vento, la fortuna di Bull si era affermata nella seconda metà degli anni 50, quando le sfere militari del Canada rivalutarono alcuni suoi studi chiedendogli di partecipare alla ricerca per sistemi difensivi antimissilistici e poi autorizzando la ripresa degli esperimenti sulle artiglierie di medio campo. Con un budget finalmente adeguato, Bull aveva potuto avviare i test in alcuni poligoni, ma il suo carattere, definito da diversi suoi amici come troppo burrascoso, con punte di assoluta spacconaggine, Beh, quel carattere gli era costato caro. Una butada assolutamente priva di riscontri sulla capacità di concorrere da parte del Canada della competizione spaziale, alcuni diversi con i suoi superiori al ministero gli avevano causato il licenziamento nel 1961. Le sue ricevche, tuttavia, avevano destato l'interesse di altri accademici che cominciarono a investire su di lui. Non passò molto tempo, infatti, prima che la McGill University di Toronto gli affidasse la direzione di un dipartimento di ingegneria sulle ricerche ad alta quota. Stava nascendo il progetto HAARP con un poligono privato alle Barbados, dotato di un vecchio cannone da 406 mm acquistato in saldo dalla US Navy. Con quel pezzo di derivazione navale, Bull iniziò a sperimentare i lanci ad alta quota, riscontrando un successo soprattutto mediatico, con articoli costanti scritti dalla stampa specializzata, quella aerospaziale e quella della difesa, che ne lo dava l'efficienza in rapporto ai costi sostenuti dalla NASA per sperimentazioni sui missili. Il budget previsto consentì a Bull di lavorare per cinque anni, affinando i proiettili speciali per la messa in orbita di oggetti inerti, arrivando al record mondiale di 180 km di altezza, prima che la spinta inerziale della sua iniziativa accusasse i primi contraccolpi. Il governo canadese cominciò a non piacere l'attivismo di quello che riteneva essere un suo ex dipendente un po' riottoso, e nel 1967 dispose affinché le erogazioni di denaro al progetto HAARP cessassero, entro l'anno successivo. Di nuovo senza un committente, senza un lavoro, Bull si reinventò, divendo imprenditore, attingendo ai suoi esperimenti al materiale rimasto in suo possesso, fondò la Space Research Corporation, una compagnia di consulenza. Tuttavia, rispetto del nome, la Space Research Corporation non trovò mai committenti nell'ambito della ricerca aerospaziale. Piuttosto attirò l'interesse di paesi non allineati che volevano aggiornare la propria artiglieria da campagna. Lavorando su una base consolidata, quella dell'obbici americano da 155 mm, Bull creò il suo primo pezzo, il GC-45, con proiettili dedicati che risultarono nel complesso più precisi di quelli forniti dagli Stati Uniti. La sua prima commessa, una vendita di 50.000 munizioni a Israele nel 1973, in occasione della guerra dello Yom Kippur, gli sparacò le porte del mercato di armi e gli guadagnò le simpatie dell'amministrazione Nixon, e poi di quella Ford, che gli concesse la cittadinanza statunitense per meriti scientifici. Certo, non si può parlare in questo caso di meriti politici, per evitare grossi imbaranze. Ma torniamo al nostro uomo. Poco tempo dopo, negli uffici della SRC si palesarono emissari del Sudafrica, che con la scusa di interessarsi al famoso programma di ricerche spaziali, ormai però in disuso, ingaggiarono Bull per un deciso aggiornamento del parco artiglieria. Il paese dell'Apartheid era all'epoca impegnato in una spinosa guerra con l'Angola, da poco divenuto indipendente, che, rifornito di moderni sistemi d'arma dell'Unione Sovietica e irrobustito da un contingente cubano, teneva in scacco le forze armate di Pretoria, in Namibia. In breve tempo, Bull modernizzò la grattiglieria sudafricana, sviluppando il G5, un obice derivato dal suo primo progetto, e successivamente una versione semovente dello stesso cannone, oltre a garantire una fornitura di 30.000 proiettili. Con queste armi, il Sudafrica ebbero meglio sui cubani, ma per somma sfortuna e l'ingegnere, la nuova dottrina, varata dall'amministrazione Carter, subentrata dopo le elezioni del 1976 a quella di Jerry Ford, nuova dottrina in tema di forniture belliche, beh, gli risultò assai nefaste. Nel 1979, l'FBI arrestò Bull con l'accusa di aver imbastito un traffico illegale di armi in un paese sotto embargo internazionale. A nulla va sui tentativi dei legali dell'ingegnere di dimostrare l'iniziale appoggio di funzionari americani all'operazione. Deluso e amareggiato, Bull si ritrovò a scontare sei mesi di carcere in un penitenziario federale e a pagare una sanzione dopo l'altra, dopo che i suoi connazionali scoprirono che aveva accettato una commessa dalla Cina senza pagare i diritti doganali. Uscito di prigione, Bull decise di rompere con le sue radici nordamericane, sia quelle statunitensi che quelle canadesi, trasferendosi definitivamente a Bruxelles, dove già operava un ufficio periferico della sua società, senza più stimoli concreti, in ambito aerospaziale almeno. Bull continuò a lavorare come consulente per l'artilleria campale e, in tale veste, venne contattato da quello che all'epoca era un ottimo cliente ancora degli Stati Uniti. Parliamo dell'Iraq e di Saddam Hussein. Dopo aver dichiarato guerra al suo vicino sciita sperando di approfittare della cacciata dello Shah e quindi del decadimento qualitativo dell'ex esercito imperiale, il paese medio orientale era invischiato in un conflitto senza via d'uscita, in cui le masse iraniane riuscivano a contenere l'esercito di Saddam meglio armato e che godeva del sostegno praticamente di tutto l'Occidente. Bull ebbe dunque una possibilità per rifarsi del passato, portando a Baghdad i suoi migliori gioielli e creando sulla loro base due obici semoventi con cui le truppe di Saddam poterono vincere la decisiva battaglia nelle panute di Fao. Fu abbastanza per guadagnarsi la simpatia del Reis, cui l'ingegnere illustrò il suo vecchio progetto HAARP, l'intenzione di traghettare l'Iraq tra le grandi potere. Con HAARP, Saddam avrebbe potuto lanciare in orbita un satellite al 100% iracheno, assumendo un ruolo di primaria grandezza nella regione medio orientale e ottenendo un riconoscimento internazionale assoluto. In cambio di aggiornamenti ai vecchi Scud B, rozzini, seribalistici sovietici che l'Iraq aveva acquistato in gran numero a prezzo di saldo, Bull ha autorizzato a riprendere le ricerche su base HAARP, disegnando due super cannoni che avrebbero costituito il nerbo del programma spaziale iracheno, nome in codice Babilonia. Mentre lavorava a Babilonia, Bull si accorse di alcune stranette. A Bruxelles, ormai diventata casa sua, vide in ben due occasioni degli sconosciuti che lo pedinavano. Il suo appartamento fu visitato dai gnoti che gli lasciarono dei messaggi sotto forma di bicchieri spostati, cassetti aperti, videocassette riavvolte nel registratore. L'ingegnere cominciò a preoccuparsi e una sera di febbraio del 1990 richiese un contatto con l'addetto dell'ambasciata statunitense per confidare i suoi timori. Il colloquio che ne seguì sembrò tranquillizzare Bull che riprese il suo lavoro sino a quella sera del 22 marzo quando quelle cinque pallottole misero fine per sempre alla sua vita. Allora resta la nostra domanda iniziale. È un cold case non è stato ancora risolto. Chi ha ucciso Gerald Bull? Nessuna verità è stata accertata a parte la presenza di tre individui noi identificati nel palazzo in cui abitava pochi minuti prima dell'assassinio. Quello che fu probabilmente il plotone d'esecuzione dello scienziato venne scorto da alcuni residenti mentre scappava con discrezione dall'acquato dileguandosi a bordo di un'auto risultata rubata e ritrovata il giorno dopo senza traccia all'interno. L'abbiamo detto un lavoro da estremi professionisti. Sul posto a fianco al cadavere di Bull è rimasta la sua valigetta intatta con all'interno scritti tecnici calcoli e 20.000 dollari in contanti smettendo dunque l'ipotesi dell'era piena. Sono tre i filoni di inchiesta seguiti dagli inquirenti belgi ma nessuno ha mai portato a una chiara risultanza. Il maggiore sospettato è lo Stato Consolato dell'Iran una vendetta per le artiglierie fornite da Bull durante il conflitto negli anni 80 ma Teheran ha sempre smentito seccamente l'ipotesi affermando di aver mai ritenuto che l'ingegnere rappresentasse un pericolo per la Repubblica Islamica. Resta la terza pista quella irachena una squadra di killer inviati da Saddam in persona per chiudere la bocca per sempre a quell'uomo talentuoso ma un po' chiaccherone. Geniale e allo stesso tempo ingenuo perché forse a causa perché Bull si era rifiutato di produrre proiettili da ripire di gas con cui colpire le minoranze kurde sciite forse perché aveva spifferato qualcosa di troppo agli americani o magari agli israeliani. Il motivo reale di quella morte assurda sul pianerotolo non si saprà mai sono trascorsi quasi 34 anni i super cannoni di Bull comunque non hanno mai sparato un colpo le sezioni commissiate ad aziende inglesi tedesche francesi spagnoli italiane sono finiti sotto sequestro subito dopo l'invasione del Kuwait mentre i suoi obici sono rimasti negli arsenali di Saddam sino alla sua definitiva caduta nel 2003. Cosa resta oggi di Gerald Bull? Resta la memoria di un ingegnere geniale ma come detto a volte un po' ingenuo di un uomo che sognava lo spazio ma si ritrovò alla fine a lavorare come armaiolo restano i suoi progetti restano i suoi obici restano i suoi semmoventi restano le sezioni del suo progetto babilonea che vennero sequestrate e che oggi sono esposte in alcuni musei e allora ci resta un'ultima domanda su Gerald Bull quella idea del super cannone capace di sparare proiettili nello spazio tali da collocare satelliti in orbita era una possibile realtà o solo il magnifico sogno di un canadese talentuoso ma un po' spaccone? di un po' spazio ci